Progressi bruciati e respiro sempre più corto, è il quadro che la camera di commercio di Belluno Treviso disegna per le imprese bellunesi nel loro complesso in questo periodo di emergenza coronavirus. Da che contesto arriviamo? In un Veneto che nel 2019 ha aumentato il volume delle esportazioni dell'1,3%, Belluno ha realizzato praticamente il triplo del risultato con un 3,8% trainato dall'occhialeria. Attualmente però lo scenario è ben più grigio. Primo fattore, gli approvvigionamenti all'estero sono difficili. Il bellunese importa intorno ai 300 milioni di valore, si stima un ammanco di circa una ventina. Per il settore occhialeria l'indice di dipendenza dalle produzioni cinesi è altissimo, basti pensare a tutte le minuterie e i semi lavorati che le aziende non producono in casa. Secondo fattore, anche chi prosegue la produzione si può ritrovare in difficoltà nell'esportazione. Sono spuntati i blocchi alle frontiere, la mente corre subito ai massi in mezzo alla strada sul confine sloveno, ma anche altri paesi dell'Europa centro-orientale hanno reso più difficile il transito dei camion. Poi occorre tenere conto del fatto che le limitazioni imposte dall'ultimo decreto governativo impattano su 11.000 imprese bellunesi, posto di lavoro per il 51% degli occupati e fonte di esportazioni per il 20% del totale al netto dell'occhialeria. Su questo settore giudizio sospeso perché ci sono aziende che hanno stabilito la chiusura e altre no a seconda dei codici merceologici assegnati. Le sigle sindacali di categoria sostengono l'inopportunità delle aperture. Il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza sbotta, la rigidità dei sindacati è fuori luogo. La stima del danno per le imprese bellunese in tutti i settori è di circa 30 milioni sulle esportazioni per 15 giorni di stop. Preoccupa la possibilità che gli imprenditori si trovino in mancanza di liquidità, spiega Pozza, e che si crei lo spazio per infiltrazioni della criminalità organizzata.